Sì, ciao a tutti ragazzi da Studio Camorrino. Bene, sono qui a Murriale da più di 20 giorni e adesso è il momento proprio di una vera e propria festa. Vedete, sono all'interno di un arco mestoso, un corridoio mestoso di luci fino al tetto, ovviamente molto bello. Perché ti vede una palestra. Siamo su dei piedi, mi sembra una raffregurazione luminosa della bellezza visiva della cattedrale, che straordinario. Un saluto da Studio Camorrino. A presto. Ciao. Ciao.